Questo non può sembrare una lepre, questo non può sembrare una lepre, perché non è una lepre, non può sembrare una cincilla perché non è neanche una cincilla, è un coniglio nano, Oricotlagos cuniculus, ne ho uno a casa mia che si chiama Morino, si dice pauroso come un coniglio, perché il coniglio mentre viene inseguito è pauroso. Appartenente all'ordine della Gomorfi e della famiglia delle Polidi, mangia pannocchie, carote ed erba, ma non mangia ghiande come le capri, i maiali e gli scogliattoli, ho conosciuto Scorbani, il pokemon coniglio.